Eccoci ancora insieme, dunque abbiamo visto questa ulteriore sfaccettatura che il 21 giugno, la data odierna, ci consegna e adesso vogliamo aggiungere un ulteriore tassello che è a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo, da San Giovanni Rotondo, ma è un luogo importantissimo dal punto di vista storico, artistico, culturale e religioso. E allora stiamo parlando dell'abbazia di San Leonardo che oggi nel giorno del solstizio d'estate acquista un'importanza particolare. Voglio salutare Don Fabrizio Cirelli dei ricostruttori della preghiera parroco della parrocchia di San Pio da Pietrelcina e al movimento ricostruttori della preghiera è affidata la cura pastorale e gestionale dell'abbazia di San Leonardo in lama di Ibolara, ecco come è meglio specificare. Nel corso di questa puntata, subito dopo l'intervista a Don Fabrizio che ci spiegherà un po' quelle che sono le caratteristiche del movimento ricostruttori nella preghiera, vedremo insieme uno stralcio del documentario Le vie del sacro che ci racconta il perché è così importante questa abbazia in questo giorno. Allora innanzitutto saluto Don Fabrizio e lo ringrazio per essere con noi. Grazie e buongiorno. Grazie e buongiorno a te Leonardo. È per noi sempre un piacere ospitarti. Vorrei partire allora dal dato storico perché l'abbazia di San Leonardo, come ho detto, è affidata alla cura pastorale del tuo movimento, è sempre stata meta di pellegrini, fin dalle origini, potremmo dire, dai primi secoli del cristianesimo, anche se poi si colloca strutturalmente nel Medioevo. Quello che vorrei chiederti è come viene coniugata l'esperienza dei ricostruttori con la moderna concezione del pellegrinaggio. Sì, questo luogo intanto vede passare diversi tipi di visitatori e di pellegrini. È sempre un grande piacere quando le persone scoprono e ricercano questi luoghi e li vogliono vivere, anche se diciamo come piccola sosta di passaggio. I ricostruttori si trovano in questo luogo dal 2011 e cercano... Sì, esatto. Come era prima la facciata, prima dei restauri. E quindi i ricostruttori si troveranno in questo luogo innanzitutto come accoglienza dei pellegrini, i visitatori che trovano qui una sosta accogliente e direi anche connotata da un senso di pace, di tranquillità. Il pregrino di ieri, come quello di oggi, cerca luoghi tranquilli dove poter raccogliersi in se stesso, fare una sosta di discernimento anche del proprio cammino spirituale, della propria crescita personale e spirituale e rivolgersi poi nel cuore e nella mente verso Dio. E quindi diciamo la nostra opera si inserisce proprio anche in questo senso come agevolazione e facilitazione di questo cammino spirituale. Questo cammino spirituale che è stato l'affidare, questo cammino dell'abbazia al vostro movimento è stata un'intuizione di Monsignor Michele Castoro, già arcivescovo ovviamente di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e poi riconfermata dal suo successore, padre Franco Moscone. Io credo che Monsignor Castoro, ovviamente non voglio interpretare i suoi sentimenti, ma riprendere quello che lui in qualche maniera ha detto presentando anche questo incarico, chiamiamolo così a voi ricostruttori nella preghiera, ha voluto dare un senso particolare perché appunto come dicevamo prima l'abbazia di San Leonardo è stata meta di pellegrinaggi fin dall'antichità ed è un luogo che conserva ovviamente non solo le vestigia storiche, ma anche quella che è la spiritualità di un pellegrinaggio concepito secondo determinati canoni. Allora io verrei proprio alle origini del movimento ricostruttori nella preghiera, caro Don Fabrizio, perché vorrei che tu ci spiegassi un po' in cosa tra virgolette consiste la vostra spiritualità. Sì, benissimo. Allora, le origini del nostro movimento, movimento ecclesiale, sono da ricercare innanzitutto nel contesto del post-concilio. Siamo verso la fine degli anni 70 e c'era in Italia e in Europa un crescente bisogno e desiderio di approfondire la spiritualità. soprattutto molti giovani erano in ricerca e si stavano anche allontanando da quelle che erano le tradizionali pratiche religiose occidentali e cristiane e si rivolgevano in India per cercare lì un po' il segreto di una crescita continua e di una vita felice. In questo contesto il nostro padre fondatore, Gian Vittorio Cappelletto, un sacerdote gesuita che all'età di 45-46 anni viene mandato in India dai suoi superiori per andare a vedere e approfondire questa spiritualità. Una volta tornato poi in Italia ha trovato nell'Oriente cristiano e nel cristianesimo la preghiera del cuore, l'esicasmo, quindi un modo contemplativo di vivere la spiritualità, la preghiera profonda e un po' il segreto di una crescita graduale spirituale. E quindi si inserisce in questo contesto l'origine. Poi il padre Cappelletto ne ha fatto un'opera di apostolato, ha proposto questa spiritualità che era tipica dei movimenti monastici, l'ha proposta come sfida anche per il mondo laicale, cioè per tutte quelle persone che vivono ordinariamente nel mondo con un impegno sociale. E da qui è nato un po' tutto. Fino a quando si sono radunate anche migliaia di persone che seguono questa spiritualità. Allora, i pilastri del movimento quali sono? I pilastri del movimento direi potremmo riassumerli in quattro. Quattro pilastri. Beh, innanzitutto il nostro nome lo dice, i ricostruttori nella preghiera. Un primo pilasto direi la preghiera. Una preghiera, come dicevo, cerca di contattare il bisogno e desiderio profondo della persona per una crescita integrale, continua una crescita integrale di corpo, mente, spirito e affetti. La nostra preghiera è una preghiera che valorizza appunto il corpo come tempio dello spirito santo, quindi cerchiamo di privilegiare il rilassamento, il raccoglimento, l'interiorizzazione, rilassare tutto il nostro corpo, ci serve per predisporlo all'esperienza viva della preghiera ed in un incontro con Dio. E poi cerchiamo di tacitare quelli che sono i pensieri negativi, il dialogo interno, lo facciamo con delle visualizzazioni, lo facciamo attraverso una tecnica di respirazione consapevole diaframmatica per poi aprirci alla dimensione spirituale. Quindi, come dicevano i monaci antichi, far discendere la mente nel cuore. E il cuore è il luogo della coscienza, il luogo dove possiamo attingere luce di coscienza e incontrare Dio. Noi inseriamo nella respirazione una breve frase ispirata, tratta dalla Sacra Scrittura, una giaculatoria, un pezzo in ispirazione e uno in espirazione, secondo un preciso atteggiamento esistenziale, che è quello di sentirci piccoli da una parte, molto bisognosi, e abbandonandoci con fiducia in ispirazione. È un po' una preghiera esistenziale, vitale, che poi permette di vivere nella quotidianità con maggiore fiducia. Questo è il primo pilastro, quello della preghiera. Poi sicuramente anche il servizio, perché comunque parliamo di una crescita nell'amore, è un amore concreto che diventa servizio. Noi cerchiamo di vivere ordinariamente un servizio differenziato agli uomini e alle donne, alle piante e agli animali, qualcosa di qualificato. E poi un servizio più comunitario e relativo al nostro movimento, che è sempre stato quello di ricostruire cascine, masserie, antiche abbazie abbandonate, fatiscenti, per restituirle a luoghi di preghiera e di raccoglimento. Ecco, questo è forse il nostro servizio più generico che facciamo, e l'abbiamo sempre fatto con tanta volontà, con tanta fatica, ma poi vediamo che le persone sono contente di radunarsi in questi luoghi per vivere la spiritualità. E poi ci sono altre due dimensioni, altri due pilastri. Uno è quello della fraternità, una fraternità vissuta a vari livelli, perché siamo un movimento ecclesiale che conta diverse persone per stati di vita, estrazioni sociali, sesso, età, e quindi una fraternità più ampia. E poi c'è la fraternità della comunità dei consacrati, di cui faccio anche parte, che vive una familiarità un pochino più stretta secondo i consigli evangelici. Allora, Don Fabrizio, io invito i nostri telespettatori a visitare il vostro sito internet, ricostruttori.org, in maniera tale da inquadrare anche in maniera più approfondita quello che oggi abbiamo solamente per certi versi accennato. E poi chiederei alla regia, se riesce nel miracolo del 21 giugno, di geolocalizzare attraverso magari Google Maps l'abbazia di San Leonardo, che a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo e da Manfredonia, è un luogo davvero straordinario, come dicevamo, per bellezza e per spiritualità, a voi affidato, che è stato riportato all'antico splendore. E quello che vedete in questa fotografia è il fenomeno che accade ogni mezzogiorno, di ogni 21 giugno, quando astronomicamente entriamo in estate. E dunque, Don Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato con noi. La regia ha fatto il miracolo del 21 giugno e ringrazio per avermi seguito così in presa diretta. Io, Don Fabrizio, ti ringrazio davvero di cuore perché sei stato con noi per la tua disponibilità davvero a parlarci di questa ricostruzione nella preghiera di cui la nostra società ha anche bisogno. E spero di risentirti presto per continuare ad approfondire queste tematiche che sono davvero molto, molto interessanti. Grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie, Leonardo. Grazie a tutti voi. Ringraziamo allora Don Fabrizio Cirelli. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi subito dopo vedremo uno stralcio breve del documentario Le vie del sacro, riferito proprio all'abbazia di San Leonardo. Restate con noi. Grazie a tutti.